Collegando la tastiera PNI DK101 a una serratura elettrica si può limitare l'accesso in certi spazi. Grazie alla custodia e ai pulsanti in metallo questa tastiera è estremamente resistente a qualsiasi tentativo di vandalizzazione o sabotaggio. Grazie ai tasti illuminati la tastiera offre un'ottima visibilità sia di note che in situazioni con luce scarsa. La tastiera PNI DK101 può attivare l'apertura della serratura attraverso quattro diverse modalità di accesso. Passando una scheda o un tag elettromagnetico davanti alla tastiera, inserendo un codice di accesso, passando la scheda o il tag elettromagnetico più l'inserimento del codice di accesso e l'ultima modalità collegando la tastiera a un pulsante di accesso installato sull'altro lato della porta. Le impostazioni della tastiera possono essere personalizzate in base alle esigenze degli utenti e dello spazio protetto.